Boom di ingressi alla Valle dei Templi domenica scorsa 3 giugno che, essendo la prima domenica del mese, era giornata a ingresso gratuito. 5973 i visitatori che si sono riversati all'interno del sito archeologico agrigentino, che da qualche tempo a questa parte sta registrando un trend più che positivo. A dimostrarlo è il paragone con le presenze registrate a giugno dell'anno scorso, 5100, un incremento del 17%. I numeri della Valle e d'altronde sono tutti a rialzo. L'appena trascorso mese di maggio si è chiuso con 125.300 ospiti, tra uomini, donne e bambini, rispetto ai 108.000 visitatori registrati a maggio del 2017. Ottimi anche i primi quattro mesi del 2018. 328.000 le presenze, contro le 275 dello stesso periodo dell'anno precedente. La prossima stagione sarà una delle più importanti dell'anno. Il periodo estivo, infatti, costituisce uno dei momenti più floridi per gli ingressi alla Valle. Nel 2017, gli ingressi registrati al sito archeologico sono stati circa 885.000, oltre 150.000 in più rispetto al 2016. E il 2016, a sua volta, era andato meglio del 2015. Eppure, visto che le vele sembrano più gonfie che mai, ci sono buone probabilità che anche quest'anno si possa abbattere il record del precedente, che valso alla Valle il primo posto tra le aree archeologiche gestite dalla regione per numero di visite, sorpassando anche il teatro antico di Tormina.